...6 di Treditaria, delle ore 8 e 12, per la Roma è il parmette dal binario 6, invece che dal binario 7. ...35, 7, 1, 3 di Treditaria, provvedente da Torino-Porta Nuova e diretto a Venezia-Tanta Lucia, delle ore 8 e 13, e l'arrivo al binario 4. ...6 di Treditaria, attenzione, avlottanarsi dalla linea Jack, per Nargo, Pierrezzo, Milano Centrale, Prescia, e選zano per una porta nuova, Vila, Tranzano, Velenia Express. ...22, intorno a S6, 10, 6, 0, 4, i 3, 9, 0, 8 e 12, provvedente da Venezia-Tanta Lucia, dei sottotitari, a Venezia-Tanta Lucia, delle ore 9 e 13, e l'arrivo al binario 5. Grazie a tutti. Grazie a tutti.